ciao amiche e amici allora abbiamo appena aperto questo pacchetto è un ordine che ho fatto da q studio che è un brand tutto italiano presumo che molti di voi lo conosceranno e di make up e hanno anche qualcosa di skin care allora vediamo che cosa ho preso preso dei prodotti che conosco abbastanza bene come vedete ben confezionato ecco loro ti mandano sempre il loro meraviglioso catalogo che adesso riusciamo ad estrarre eccolo qui è quello nuovo stupendo che potete poi divertirvi guardare tutti i prodotti stupendi che loro fanno adesso apriamo e vediamo che cosa c'è ecco dicevamo il loro bellissimo catalogo che dopo studieremo accuratamente poi i prodotti prodotti che ho preso sono un prodotto che quasi tutti ho già già provati tranne uno che ho provato in accademia ma non ho comperato diciamo questo è il loro meraviglioso fondotinta 4k io uso il numero 1 che è perfetto per me che vedete è chiaro ma non è chiarissimo per me va benissimo loro meraviglioso fondotinta che pialla anti age eccetera poi ho preso sono stato un po udace ho preso il loro questo è un prodotto che io conosco il cover cream che è il loro meraviglioso correttore ho preso il colore pescato si è un po scuro però dovrebbe contrastare il blu della dell'occhiaia vabbè vedremo insomma se ci va ci va bene il loro prodotto top di gamma è un favoloso poi ho preso eccolo qua la loro cipria in polvere libera che io adoro la 02 che tonalizzante ma chiara e infine questo ho detto una sciocchezza io l'ho provato in accademia ma poi l'ho l'ho anche avuto e l'ho l'ho usato è fantastico il loro primer che adesso noi forse riusciamo ad aprire non è sicuro ma forse lo apriamo eccolo qua il loro special primer ecco anche questo è un prodotto che super 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 consiglio si ce la stiamo facendo intanto guardiamoci gli altri arriva questo è un primer veramente super super efficace che io uso non tutti i giorni ma proprio per farmelo durare di più e non perché non si possa usare tutti i giorni e questo diciamo che questa combo questa combo ecco qua c'è il loro primer il loro fondotinta 4k e la cipria in polvere libera è una combo fantastica in più io ho provato questo loro correttore ripeto di solito mi sembra che prendevo lo 02 stavolta invece ho preso quello aranciato vediamo un po che cosa succede e ecco qui il mio piccolo haul di custodio breve video per farvi vedere che cosa mi è arrivato prodotti top super 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 consigliati anche per una pelle ag ciao amiche amici alla prossima